Ciao Food Spingers, sono tornata, sono super contenta di parlarvi dell'energia L'energia che è una cosa molto importante perché spesso e volentieri tutti quanti prendono i zuccheri come forse una cosa tremenda Per carità non dobbiamo mangiare i zuccheri, dobbiamo mangiare solo proteine andiamo su iperproteine, dobbiamo mangiare solo proteine Sbagliato! Le proteine servono dopo l'allenamento però i zuccheri servono specialmente nella stagione calda per avere l'energia necessaria per affrontare la giornata i carboidrati servono, ok? Quello che è importante però anche sono i sali minerali sali minerali perché sudiamo di più in estate così rischiamo di avere più crampi Allora, che cosa ti consiglio di Food Spring adesso? Endurance Drink, io adoro il limone mi piace qualunque cosa il limone, dal sorbetto al limone alle bibite al limone, allora Endurance Drink al limone mi piace tantissimo ed è una cosa che ci aiuta a affrontare magari una corsa, un allenamento ardua sotto il sole Rimini, c'è il Rimini Wellness che arriva prossimo alla fine di maggio e io vado avanti proprio di non solo che mi servano i zuccheri per avere l'energia necessaria per fare 4, 5, 6 lezioni al giorno ma anche le sali minerali per far sì che non entro in crampo Allora, noi qui con il nostro Endurance Drink abbiamo maldodextrin, fruttosio, destrosio, ok? Però abbiamo anche magnesio, calcio e potassio che sono fondamentali per le osse per le sali minerali, elettroliti nel nostro corpo per aiutare anche di non entrare in crampo durante un allenamento perché, ti posso garantire, non è divertente, ok? Così, come facciamo il nostro Endurance Drink? è una polvere bianca Così mettiamo dentro le nostre polvere dopodiché aggiungeremo l'acqua più semplice così, non si può e la prendiamo di solito o prima dell'allenamento o se l'allenamento è prolungato durante l'allenamento L'Endurance Drink è proprio per darci la forza necessaria per allenarci al meglio senza avere quel calo di energia che magari durante la partita o durante l'allenamento non serverebbe per avere il massimo del nostro performance Grazie al fruttosio, ad estrosio e la maldestrina abbiamo anche un dolce e non ha quel retro gusto che hanno le altre bibite energetiche ai sali minerali perché questa è più un'energia grazie ai carboidrati che ai sali minerali lo bevi e sarai pronto per affrontare qualunque allenamento con tanta energia con il nostro FoodSpring Ricordate anche che su FoodSpring potete approfittare del mio sconto scrivendo JillYT durante la fase della vostra check out e prenderai 15% su tutto l'ordine del tuo FoodSpring qua con Jill, qua con FoodSpring e buon allenamento a tutti perché avrete sicuramente più energia Grazie! Ciao L'outra L'esporto L'Espo Grazie per la visione!